ACIMILAN FORZA LOTTA VINCERAI, NON TI LASCEREMO MAI, NON TI LASCEREMO MAI GROSSA ATTENZIONE! GOL DI ARNANI Avete capito? Ebbè, questo è il Parma Si è fatto superare sulla sinistra Gervinio mette al centro GOL DEL PARMA 13 minuti di gioco Il vantaggio del Parma San Siro dopo 13 minuti di gioco Con la prima volta forse che il Parma si fa vedere nell'area di rigore Teo, Teo, Teo GOL! 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 Castiglieco, Castiglieco Castiglieco, Castiglieco Su palla assist di Teo Hernandez Sottomisura Castiglieco la messa E andiamo Castiglia 1-1 Primo tiro in porta, primo gol 1-1 Castiglia Vedi, qui è la dimostrazione che Remici è un finalizzatore Non è un finalizzatore ma è un grande assist manager Che ha fatto un taglio Diaz, corregge la traiettoria Chissà se era volontario questo tacco di Diaz Ma non volevo fare il gioco Annullato Ma è Ibrahim Diaz quando parte Annullato Il fuorigioco di Ibrahim Diaz sul cross di Credo Bello Traversa Traversa C'è la no Grande traversa Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile Due pali in 5-6 gradi E poi la traversa C'è la no Non è possibile Non è possibile Saresti seduto o non è possibile uguale? Non è possibile Pazzesco Tiziano Erdani GOL Cross dalla destra Coro dalla destra Erdani ancora una volta arriva da dietro Colpo di testa Palo interno Dei gol 2-0 56esimo GOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL Teo Hernandez GOOOOOOOL di testa Teo dai Teo Hernandez di testa 1-2 GOOOOOOOL 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 Che legata Teo Hernandez 91esimo minuto Teo 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 Sinistro Incrociare Ragazzi Ha un sinistro Teo Hernandez Che Vi